Lascerei la parola a Furlan che ci spiega perché si è scelto di fare un panel sulla riforma del fisco e perché questa scelta di denominazione per un fisco sostenibile. Mi verrebbe facile la battuta perché Giovanna Ricci me l'ha chiesto mattina e sera per tutta l'estate, quindi ho detto o faccio le vacanze o organizziamo il panel sul fisco. In realtà la sollecitazione era del tutto pertinente rispetto a una serie di considerazioni, una è quella che il fisco e la riforma fiscale, poi ci sono persone molto più esperte di per parlarne, è uno degli aspetti rivendicativi della Confederazione e perché è ritenuto un fattore necessario per dare un riequilibrio redistributivo della ricchezza a favore soprattutto di chi ha più bisogno. quindi è un tema che impatta specificamente sulle persone, sulla vita quotidiana delle persone e delle famiglie, soprattutto poi in un momento come questo dove le difficoltà che vivono sono di particolare rilevanza. E in quest'ambito quindi approfondire questo aspetto ci sembrava poi del tutto coerente con quindi il titolo Wilka con le persone, ci sembrava coerente nell'ottica di quel ragionamento sulla sostenibilità che noi abbiamo impostato nella relazione e che abbiamo anche proposto nei vari panel alle controparti sia ad Abi che a Federcasse che ad Ania il tema della sostenibilità come ragionamento per trovare logiche di sviluppo che siano una logica di progresso sostenibile sia in accompagnamento alla transizione energetica e ambientale ma anche in una logica di rincorsa a questo sviluppo e anche al profitto in modo che non impatti negativamente poi sulle persone ma anzi crei maggiore benessere. In più è un riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori del settore anche perché al di là degli aspetti dell'impegno e della professionalità troppo spesso il tema del fisco viene visto ovviamente in modo antipatico dai cittadini che devono pagare le tasse e il tema della riscossione in modo altrettanto antipatico come se fosse responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori le modalità con cui la riscossione funziona quando in realtà le modalità sono decise dai politici e dalle scelte che vengono fatte a quel livello. È ancora più antipatico quando poi loro sono per primi quelli che attaccano le modalità tutte le polemiche che ci sono state non recentemente ma comunque nel tempo su Equitalia, le cartelle eccetera come se quelle regole le avessero inventate le lavoratrici e i lavoratori. Allora come dicevo in relazione noi ci opponiamo fermamente a questa propaganda che scarica responsabilità su altre e soprattutto su lavoratrici e lavoratori che invece svolgono un servizio centrale per una società civile in cui ognuno contribuisce al benessere collettivo e deve farlo attraverso logiche di proporzionalità e in questo già solo con questa frase emerge cosa penso di una tassa livellata che proporzionale non potrà mai essere e potrà solo portare benefici ai più ricchi e penalizzazioni per i più deboli. Quindi crediamo che fare un panel su questo tema sia un riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori del settore sia coerente con tutta la logica e le proposte congressuali e crediamo che possa dare degli spunti interessanti. La cosa in più è che poi tutto questo dibattito arrivi a quel mondo politico che purtroppo si sta molto disinteressando degli aspetti economico del mondo del settore economico finanziario, banche, assicurazioni ma devo dire anche il tema della riscossione delle tasse. Grazie Furlan, visto che ci sono state le elezioni due giorni fa questo sarà probabilmente uno dei temi cruciali affrontati nelle prossime settimane, appunto Furlan bisogna fare un'azione di sistema, una riforma strutturale. Allora mi torna in mente un intervista che ho letto di Proietti forse qualche settimana fa in cui diceva la riforma del fisco può dare un contributo alla ricostruzione economica, sociale e civile del nostro Paese. Insomma possiamo sintetizzare giornalisticamente dicendo che è la madre di tutte le riforme? Un saluto a tutti, intanto voglio fare i complimenti a Fulvio per questo bel congresso, per la relazione veramente approfondita di ieri che rappresenta un contributo non solo a tutto il settore bancario ma un contributo complessivo all'elaborazione della UIL e della nostra organizzazione. Grazie a tutta la segreteria e grazie anche a Giovanna che, l'ho ricordato da sola, si è molto impegnata e battuta affinché ci fosse questo approfondimento. Il fisco, la riforma fiscale e la lotta all'evasione fiscale è la madre di tutte le battaglie, ha perfettamente ragione. Noi dobbiamo affrontare la ricostruzione del nostro Paese dopo la pandemia eliminando gli errori del passato. Se noi non eliminiamo l'evasione fiscale del nostro Paese non ci potrà essere una ricostruzione dell'Italia in maniera positiva e democratica. Noi abbiamo ogni anno, dati forniti dalla Commissione governativa, 110 miliardi di evasione fiscale. Le tasse in Italia le pagano prevalentemente i lavoratori dipendenti e i pensionati che prima pagano le tasse e poi prendono lo stipendio e la pensione. Altri settori del mondo produttivo decidono loro come e quando fare il proprio dovere con il fisco. Questa situazione non può essere più accettata e dobbiamo dire che in questi anni c'è stata una disattenzione totale da parte di tutte le forze politiche, di sinistra, di centro e di destra, rispetto a questo tema. E lasciatemelo ricordare, la UIL è stata la prima organizzazione che 40 anni fa, proprio mentre io cominciavo a volare alla UIL, Giorgio Benvenuto organizzò un convegno dal titolo. Io pago le tasse e tu? In 40 anni sono cambiate pochissime cose. Giorgio, ho riascoltato proprio in questi giorni l'audio di quel convegno e fu una grande innovazione perché ci fu una relazione tenuta da te che veniva intervallata anche con delle registrazioni fatte in can di camera, una con un idraulico, a un barista, a un professionista che non fornivano mai gli scontrini, le fatture. E fu proprio molto innovativa, parliamo di metà degli anni Ottanta e le cose però sono rimaste un po' queste. Allora oggi noi chiediamo una svolta epocale nella lotta all'evasione fiscale e dobbiamo fare uno sforzo anche come sindacato ulteriore rispetto a quello che abbiamo fatto in questi anni, chiedendoci perché se due terzi degli italiani, lavoratori dipendenti e pensionati, pagano le tasse, non hanno determinato l'agenda fiscale di questo Paese, che invece è stata determinata quasi sempre dall'aura autonoma. C'è un motivo perché i lavoratori, i pensionati non si rendono conto delle tasse che pagano. Se noi chiediamo a bruciapelo a un nostro collega quanto guadagni, quello ti dice il letto. Invece deve pensare all'ordo. Allora noi dobbiamo fare una campagna per far emergere questa consapevolezza e trasformare questa consapevolezza in forza politica per incidere nelle decisioni che dovranno essere riprese nei prossimi mesi. Perché faccio un esempio semplice. Durante la pandemia il governo italiano, giustamente, ha impegnato 200 miliardi di euro fatti a debito per i sostegni e i ristori alle categorie del sottorautonomo. Era giusto farlo perché sono state quelle maggiormente colpite dalla pandemia. Se non ci sarà una svolta nella lotta all'evasione fiscale, dal prossimo anno quei 200 miliardi c'è il concreto rischio che saranno fatti ripagare solo ai lavoratori dipendenti e pensionati. Noi questo non lo possiamo accettare. Dobbiamo avviare un'azione forte sotto questo punto di vista. E nel fare questo noi non pensiamo, e concludo, a un'idea dello stato poliziotto sul fisco. Esattamente il contrario. Noi siamo stati i sostenitori di elevare a rango costituzionale lo statuto dei diritti del contribuente. Perché pensiamo che il cittadino non è un suddito, è un contribuente, ma si aveva la consapevolezza che oggi in tutte le democrazie occidentali si accede ai diritti di cittadinanza se si fa il proprio dovere con il fisco. In Italia un terzo degli italiani non assolvano questo dovere. Allora noi poniamo al nuovo Parlamento, al nuovo governo che sarà formato l'esigenza di affrontare subito questo tema con chiarezza ma anche nella direzione dell'equità e della giustizia. Grazie. Benvenuto. Abbiamo ascoltato da proiettiche di fisco si è occupato in vari congressi della Will. L'ho fatto anche come politico e come presidente del Comitato dell'Istituto Nazionale Tributaristi. C'è un concetto che ho ritrovato spesso nei suoi interventi ed è questo. Lì dice per la riforma ci vuole un'idea di sistema. Come dire che finora si è proceduto un po' attentori. Ma si è fatto un'idea del perché? Cioè del perché finora non si è riusciti ad avere un'idea di sistema che proiettasse al di là dell'emergenza nella riforma del fisco. Ma io penso che non basta l'indignazione. Bisogna assolutamente mettere con le spalle al muro coloro che non fanno. E allora io riassumo alcune questioni. oggi è il 27 settembre. Dovrebbe essere presentata la nota di aggiornamento del governo per la legge di stabilità che deve essere approvata entro il 31 dicembre se non vogliamo avere l'esercizio di carattere provvisorio. Tarderà di qualche giorno. Cosa c'è? C'è un fatto concreto. Parliamo tutti di queste forme di profitto che si hanno con l'aumento dei prezzi. Ma c'è un profitto anche che viene fatto da parte dello Stato. A che cosa mi riferisco? Al drenaggio fiscale. Al fiscal drag. Con l'inflazione che sta raggiungendo i livelli che ha noi avremo il drenaggio fiscale. Calcolano se le notizie che sono apparse ma devono essere confermate di 41 miliardi di extra gettito che sarà pagato prevalentemente da chi ha un lavoro fisso. Pensionati e lavoratori dipendenti ha detto proietti. allora quali problemi dobbiamo porre? L'Europa ci tira le orecchie e ci chiede di fare questa riforma fiscale. Noi però dobbiamo chiedere all'Europa e non lo dobbiamo dimenticare che in Europa deve raggiungersi con la necessaria tempo, con la necessaria possibilità di dilazionare nel tempo ma non ci può essere il fisco nocivo per l'Italia. Ci sono paesi che sono paradisi fiscali all'interno dell'Europa, dall'Olanda all'Irlanda e via. Non sto a fare qui un lungo elenco. Beh, bisogna assolutamente che venga previsto un itinerario per cui le regole fiscali siano uguali nell'Europa. Perché non è possibile che in alcuni paesi ci sono i paradisi fiscali e l'Italia sia un inferno fiscale. Prima. È una questione da porre con responsabilità. La seconda è che negli ultimi anni non sono dati del sindacato, sono dati della Banca d'Italia, sono dati dell'Ocse, sono dati di carattere generale. L'Italia è andata indietro. Noi abbiamo una caduta della produttività e una caduta dei salari, degli stipendi e delle pensioni ininterrotta dal 2008 ad oggi. Dal 2008 che è l'anno famoso della crisi. Ci sono dei dati impressionanti da questo punto di vista, li avete sollevati anche voi. E dei dati che hanno determinato un dumping di carattere sociale. Il nostro paese è indietro. Noi siamo al penultimo posto, mentre prima eravamo in una situazione diversa. Allora l'Europa è importante quello che viene fatto oggi, ma è importante che l'Europa ritorni a una politica sociale. Non ci può essere solo una politica della finanza, della globalizzazione e del mercato. Dobbiamo sapere che l'Europa deve ritornare ad essere sociale. La seconda questione è che le cose sono state fatte e sono state calpestate. Lo statuto dei lavoratori è stato calpestato, è ignorato. Ci sono misure che sono state adottate quando la retroattività era vietata e ci sono complicazioni dal punto di vista fiscale. Occorre che lo statuto venga applicato. Non è possibile. Lo statuto è stato fatto nel 2000 e bisogna che questo statuto venga di nuovo applicato, che sia agganciato alla Costituzione. Perché se io chiedo ai cittadini di essere corretti, lo Stato, il Parlamento deve essere corretto. Vengo ancora ai problemi della riforma. E qui, lo diceva Forrado, siamo in una situazione incredibile. E' una situazione incredibile che nel nostro paese, a parte, vorrei dire qualcosa sulla evasione, l'elusione, l'erosione fiscale. Nel nostro paese ci sono figli e figliasseri. E l'IRPEF è la tassa che oramai è pagata dai pensionati, dai lavoratori dipendenti. Brambilla, che non è iscritto al sindacato, è un leghista, ha documentato, come nel nostro paese, chi paga le tasse. E con quale altra misura? Che un lavoratore, un pensionato, ha il sostituto d'imposta? Gli altri non hanno il sostituto d'imposta. E il sostituto d'imposta è una caratteristica dell'Italia e di pochi altri paesi. In Francia, in Germania, non c'è il sostituto d'imposta. E quindi bisogna trovare un modo con il quale si ragiona, e si ragiona in una visione dove non ci siano queste contraddizioni, queste questioni che non vanno. Aggiungo rapidamente, perché bisogna, siccome si tirano sempre le orecchie il sindacato, la sinistra, ci sono anche altre due questioni che vanno. Diciamo, facciamo la lotta all'evasione fiscale, certo che bisogna fare la lotta all'evasione fiscale, ma questa evasione fiscale, più si dice che si combatte, più aumenta. C'è una questione che non funziona, che viene nascosta sotto i tappeti. L'ha detto la Corte dei Conti, lo ha ripetuto due o tre volte il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sapete quale è il magazzino che ha lo Stato, che ha la ex Equitalia? Noi potremmo riscuotere 950 miliardi di euro. Tre volte quanto è stato assegnato all'Italia dall'Europa per risanare la propria economia. Questi 950 miliardi, ci sono state le audizioni in Parlamento, ci sono state anche il sindacato che l'ha posto, stanno lì e sono soldi che si possono incassare. È stato completato tutto l'iter e quindi sono tasse dove non c'è nessuna questione, nessuna controversia. Ebbene ci dicono se faremo qualcosa potremo recuperare proprio, se si fa un grande sforzo, 10-15 miliardi. Perché? Questi 950 miliardi sono, siccome sono il risultato di anni e anni e dicono i contribuenti sono morti, i contribuenti sono falliti, i contribuenti non hanno da pagare, non ci sono pensionati o lavoratori dipendenti o giovani. E c'è una situazione che si tiene nascosta. Non si parte uno scandalo. Perché se io devo fare una lotta all'evasione fiscale non posso tenere nascosto il fatto che questi soldi non si riesce ad incassare. Qualcosa è stato fatto con la riforma del processo tributario? Riformando il processo tributario, rendendolo più veloce, non avviene quello che avviene oggi. Perché se un processo dura dieci anni, in dieci anni uno ha tutto il tempo di sparire, di morire e di portare i soldi all'estero. Ecco io penso che ci vuole una volontà politica vera che ci vuole una pressione forte, cioè questa è una questione. Nei prossimi mesi si continuerà a parlare e avremo il drenaggio fiscale. In altri paesi si stanno trovando delle soluzioni per modificare le detrazioni fiscali. In Svizzera hanno varato delle norme che permettono di togliere, di detrarre per i lavoratori le spese che derivano dal recarsi al lavoro. non so, andrà bene o non andrà bene, ma non si può trovare un modo. La pressione fiscale è troppo forte in Italia, è sperequata, è ingiusta, punisce la famiglia. Io penso che su questo terreno hanno ragione i sindacati, io stimo molto Proietti perché è instancabile nel proporre queste questioni, penso che a questo punto occorre veramente fare una vera avvertenza sul fisco. E tutto sommato non è un male che non sia stata approvata quella delega per la riforma fiscale, perché erano poche cose, non aveva. Bisogna fare qualcosa di più serio, di più forte, perché non avere le stesse regole, avere l'ingiustizia fiscale, avere figli e figliastri sono cose che non servono. Poi mi permetto di dire, io non condivido che l'errore che è stato fatto, l'ho detto anche a Letta, quando Letta ha detto mettiamo la tassa sopra le successioni. Ha fatto una cosa che non fa un economista, non fa un politico. Come posso prevedere di finanziare l'erogazione di soldi quando è incerta la data dei soldi che devo ricevere? Perché tu dici, quando uno muore e la successione con quei soldi faccio queste operazioni, questi prestiti. E poi dico, ma è possibile che la sinistra deve solo dire che mette le tasse? Che critica le tasse? Ecco, affronti il problema per cui le tasse siano eque e prima di tutto tolga questa sperequazione che rende, che favorisce anche il qualunquismo. Finisco. Devo dire che il direttore delle finanze, Romano, e il ministro Visco fecero una cosa che noi della UIL avevamo chiesto e che fosse in Italia possibile la conoscenza, l'accesso a sapere quanto uno paga di tasse. In America, in Francia, in Spagna, non è che uno può fare i pettegolezzi, ma può sapere qual è il reddito. Noi abbiamo fatto con quel governo governo Visco e Romano, che era il direttore generale, misero la norma che si potevano rendere pubblici gli estremi del guadagno e di quanto si pagava le tasse. Beh, hanno mandato il povero Romano dinanzi alla Corte dei Chianti perché l'autority, l'autority della privacy, aveva detto che noi favorivamo coloro che rapiscono i bambini, rapiscono gli altri. Ecco, un po' di serietà, ecco, è un po' anche di efficacia, è una capacità di fare in modo che noi siamo in grado di appuzzare, di trovare le risorse in questo giacimento che è tanto evocato ma purtroppo è inesplorato. Grazie. Ricordo un aneddoto a proposito di quello che hai detto benvenuto. Se non erro rimasero quei dati disponibili per mezza giornata, ricordo che io avevo gli SDN a internet e cerchai di scaricare ma subito vennero bloccati. A proposito, dovremmo forse rivedere anche il concetto di privacy nel momento in cui lede appunto i diritti di tutti. Io per ora passerei la parola a Morando perché abbiamo detto a più riprese in questi interventi che il tema della riforma del fisco non nasce oggi, se ne discute da tempo. Lei anche nell'esperienza che ha avuto governativa come vice ministro dell'economia ha tastato come sia complicato tradurre quelli che sono i programmi che arrivano sia dal Parlamento sia dalle classi sociali in norme e poi farli applicare. A questo proposito ho letto un'intervista recente in cui si esprimeva sulle misure adottate dal governo Draghi sulle misure tampone e diceva ok i bonus ma non possiamo vivere solo di bonus, serve una riforma strutturale, partiamo dal cuneo fiscale, è così? Sì, è così perché è vero che in Italia relativamente agli altri paesi la pressione fiscale che correttamente intesa è la somma di tutti i tributi più tutti i contributi in rapporto al prodotto interno lordo, questa è la pressione fiscale. Se guardiamo la pressione fiscale italiana vediamo che è relativamente alta ma non è la più alta per esempio in Europa. Se invece guardiamo dentro la pressione fiscale e cerchiamo di vedere quali sono le sue componenti fondamentali, vediamo che in Italia è particolarmente elevata rispetto agli altri paesi europei, il confronto lo facciamo con l'Europa, è inutile farlo con altri paesi che hanno caratteristiche del tutto diverse, noi vediamo che la pressione fiscale in Italia è molto elevata a paragone con gli altri sui produttori. A me piace sottolineare questo elemento perché non è del tutto corretto dire che è sui lavoratori, punto. È certamente molto elevata sui lavoratori ma lo è a paragone anche quella sull'impresa, naturalmente alla condizione che si tratti di un'impresa trasparente, è chiaro che nel campo dell'impresa ci sono situazioni di evasione e così via, ma se l'impresa si comporta correttamente la pressione sull'impresa è relativamente alta. Quindi noi dobbiamo agire se vogliamo strutturalmente cambiare le cose che stanno esattamente come ha detto Giorgio prima, quindi adesso non faccio di nuovo il riassunto perché è già stato fatto meglio di come saprei farlo io, ma voglio sottolineare che se la situazione è questa e se abbiamo due obiettivi in testa, da un lato il ritorno ad una crescita stabile e duratura nel tempo, significativa, magari non enorme perché siamo un paese industriale avanzato, ma significativa e stabile nel tempo, e se vogliamo ridurre il livello inaccettabile di disuguaglianza che caratterizza il nostro paese, allora la politica fiscale è uno strumento e bisogna assumere esplicitamente, di qui quello che dicevo nell'intervista, l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale sui produttori. Naturalmente proprio perché è vero che la gran parte del gettito è garantita da lavoratori pensionati e dalle imprese che agiscono correttamente, è chiaro che toccare lì vuol dire toccare masse di gettito importanti e abbiamo una situazione che tutti conoscete, il volume globale del debito italiano è a paragone con gli altri paesi molto più elevato. Quindi si pongono due problemi, il primo è che se vogliamo ridurre la pressione fiscale sul lavoro, cioè sui produttori, dobbiamo agire da un lato per la riduzione del tasso troppo elevato nel nostro paese di evasione fiscale e di elusione fiscale e dall'altro lato dobbiamo agire parallelamente e contemporaneamente per l'aumento del gettito su altre basi imponibili. Lo so che è politicamente impegnativo pronunciare questa frase che ho appena pronunciato, ma i miracoli non sono di questa materia, non riguardano questa materia, bisogna essere reali. E qui si pone un problema, sull'evasione magari torniamo successivamente a proposito del programma elettorale di chi ha vinto le elezioni perché forse in una discussione come questa dobbiamo tenerne conto di cosa sta scritto in quel programma. Il programma elettorale della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni, mio malgrado, non è il caso di sottolinearlo, ma ha vinto le elezioni molto nettamente, prevede un capitolo che si intitola Pace fiscale con saldo e stralcio e quindi è una cosa molto precisa che riguarda quel reale o presunto tesoro di cui in termini di cassetto dei crediti inesatti di cui ha parlato Giorgio. Ma secondo me in termini di riforma strutturale, poiché dobbiamo agire con gradualità, perché ci sono i conti pubblici che stanno nelle condizioni in cui stanno, è chiaro che è cruciale la concreta realizzazione di un enorme passo avanti compiuto negli ultimi anni, almeno in termini di definizione di una posizione comune, che è un passo di, tra virgolette, governo mondiale dell'economia. Voi sapete che prima all'Ocse, in termini di elaborazione di un progetto e poi concretamente nella riunione del G20, per iniziativa in particolare dell'amministrazione americana, quindi non di un paese che non conta nulla nel mondo, si è convenuto una forma di definizione della tassazione sulle grandi multinazionali che si scelgono il paese dove pagare le tasse e naturalmente lo scelgono dove le tasse si pagano poco e addirittura pochissimo o quasi per niente. Non sto parlando dei paradisi fiscali, sto parlando di paesi assolutamente che agiscono in un'ottica che non è quella del paradiso fiscale, ma che vengono scelte dalle grandi multinazionali, in particolare quelle del web, sapete tutti che sono al centro dell'attenzione quando si parla di elusione e erosione fiscale, che realizzano profitti di miliardi, fatturati di miliardi e miliardi di dollari e non pagano nei paesi dove questo fatturato e questi profitti si realizzano. Se noi fossimo parte della realizzazione di questo accordo lungo le linee concordate all'ultima riunione del G20, prima del G7 e poi del G20, sulla base della proposta dell'Ocse, noi faremo un passo nella direzione giusta di portata epocale e finalmente la smetteremmo di blaterare e di parlarne, ma passeremmo all'opera. Qui c'è il ruolo dell'Unione Europea, perché il problema di cui parlava Giorgio prima, che è reale e che non riprendo, si risolve attuando l'accordo del G20 e del G7, perché se tutti siamo tenuti ad applicare secondo l'aliquota convenuta il meccanismo convenuto a livello internazionale, a livello globale, noi facciamo un passo nella direzione giusta. Tutti diciamo che ci vogliono forme di governo globale. Bene, questa è probabilmente una delle più rilevanti scelte di governo globale che i grandi paesi industriali avanzati possono realizzare, mi verrebbe da dire le grandi democrazie anche in alternativa alle autocrazie nel mondo, possono realizzare per avere contemporaneamente più risorse da dedicare alla crescita e riduzione della disuguaglianza. Ho preparato un piccolo giudizio sulle proposte fiscali delle forze che hanno vinto le elezioni in Italia, ma siccome immagino che ci sia la possibilità di intervenire nuovamente... Se vuole può farlo anche ora... Posso farlo subito. Bene, allora, premessa, io non sono un giudice imparziale, questo è del tutto ovvio. Immagino che chi ha scelto di invitarmi a questa discussione lo abbia fatto perché mi riconosce una certa obiettività anche nel valutare le proposte degli altri, non solo quelle della mia parte. E se noi guardiamo alle proposte fiscali della coalizione che ha vinto, vediamo che ci sono due temi che emergono con precisione. Sono temi di enorme rilievo. Il primo, piaccia o non piaccia, è quello, è noto che a me non piace, ma è quello della flat tax. Allora, tutti gli studi, attenzione a sottovalutare questo elemento, tutti gli studi sugli orientamenti dell'elettorato di centrodestra in Italia confermano che ci sono pochi elementi identificativi sul piano direi quasi ideologico-culturale degli elettori di centrodestra. Ma uno di questi elementi è il favore per la flat tax. Quindi parliamone seriamente, cerchiamo di vedere che cosa propongono davvero perché si tratta di qualcosa che è nella testa di quasi metà dei cittadini italiani che scelgono centrodestra. Magari anche di qualcuno che sceglie il centrosinistra, ma prevalentemente... Ora, il centrodestra sulla flat tax ha proposto due soluzioni. Una, ve ne avrei parlato se non avessi conosciuto il risultato elettorale della Lega perché è la proposta della Lega per la quale voglio dire una cosa positiva salvo poi che essa si traduce in una specie di catastrofe. Sul sito della Lega voi trovavate in campagna elettorale una app in base alla quale potevate analiticamente consultare i risultati dell'applicazione della flat tax secondo la Lega sui diversi livelli di reddito IRPEF. Questo è un merito perché è una proposta precisa, quindi peccato che facendo l'operazione cioè usando l'app sui diversi livelli di reddito si aveva la conclusione che la flat tax della Lega non esiste perché vi garantisco, sono pronto a argomentare con chiunque mi interroghi sul punto, vi garantisco che non solo l'aliquota non è piatta ma per esempio passando da 25 mila euro di reddito a 26 mila euro di reddito si ha un'aliquota del 28%, altro che aliquota piatta al 15, passando da 26 a 27 si ha un'aliquota marginale sul guadagno da 26 a 27 mila, si ha un'aliquota in base alla app, non sto dicendo niente di più di quello che sta scritto là sopra, si ha addirittura un'aliquota marginale superiore al 50%, quindi le aliquote marginali sono superiori a quelle attuali, una specie di incidente determinato dal fatto che hanno avuto la brillante pensata di applicare una no tax area di 14 mila euro la quale si riduce progressivamente al crescere del reddito e a 30 mila euro è già zero, il risultato è che l'aliquota naturalmente marginale sugli incrementi dopo 14 mila è molto elevata, con l'aggiunta che l'aliquota dopo i livelli di reddito bassi cresce sia pure meno di quanto non cresca la progressione delle, il combinarsi di questi due elementi determina questo disastro, ma c'è una proposta quella della FLEC TAX solo sulla parte incrementale di reddito che attenzione è quella di Fratelli d'Italia, quindi bisogna guardarla con più attenzione perché è quella del partito largamente dominante a queste elezioni. Possiamo sintetizzare. Esatto, molto rapidamente cosa vuol dire FLEC TAX sulla quota incrementale del reddito? vuol dire che se io ho un reddito di 25 mila euro e quest'anno e l'anno prossimo ne avrò uno di 27 mila, l'aliquota piatta secondo la proposta si applica su 2 mila, apparentemente una proposta che può quasi sembrare di buonsenso, in ogni caso certo molto diversa dalla proposta della FLEC TAX come tale con l'aliquota piatta vera, non quella della Lega, vera su tutti i livelli di reddito. Ora però questa proposta apparentemente più moderata è molto insidiosa per un complesso di ragioni che molto schematicamente direi. Primo, la ipotesi, io naturalmente la considero come un'ipotesi di intervento strutturale perché se è l'ennesimo intervento una tantum non vale la pena di parlarne. Se invece è una proposta di tipo strutturale allora c'è un primo problema, ignora completamente l'inflazione all'anima di drenaggio fiscale. Qui saremo di fronte ad una proposta in base alla quale praticamente io riduco il gettito perché ovviamente se aumenta nominalmente il reddito si... ma contemporaneamente la dimensione del prodotto non cambia perché ci sarebbe l'effetto solo dell'inflazione. Il risultato una norma che costa un sacco di soldi in termini di gettito ma che non influisce minimamente sulla crescita del Paese. Secondo luogo è una forma che alimenta la cosiddetta creatività contabile fiscale e cioè è chiaro che se io faccio gli esempi così ci capiamo, se io devo pagare gli straordinari del mese di novembre e dicembre di quest'anno io che cosa faccio? Se ho la norma in questione approvata pacificamente applicabile gli straordinari li pago non quest'anno ma li pago a gennaio dell'anno successivo. Risultato prodotto assolutamente inalterato perché l'effetto del lavoro straordinario si sarà determinato nell'anno precedente ma vantaggio fiscale riduzione di gettito senza alcun effetto sulla crescita. In terzo luogo questa proposta renderebbe strutturalmente prociclica, tutti abbiamo sentito prima anche Barbagallo, la politica fiscale non deve essere prociclica, deve essere anticiclica, contrastare al ciclo, le cose vanno bene, lasciale andare senza intervenire troppo ma se le cose vanno male lo Stato deve intervenire come? Peccato che se io applico la flex tax alla quota di incremento di reddito naturalmente faccio un'operazione assolutamente prociclica, nella fase espansiva riduco il gettito, nella fase in cui ci sarebbe bisogno di aiutare paradossalmente in termini reali lo aumento. Infine l'anno di riferimento, qual è questo anno rispetto al quale devo valutare l'incremento di gettito? Dovrebbe essere aggiornato ogni tanto perché altrimenti la flex tax incrementale col passare del diciamo 10-15 anni la flex tax incrementale diventa la flex tax, punto e basta. Quindi è chiaro che bisognerebbe aggiornare l'anno ma se io so in partenza qual è l'anno in cui si aggiorna naturalmente metterò in atto quelle forme di creatività fiscale di cui ho detto. Infine la teoria secondo la quale la flex tax sugli incrementi non dovrebbe essere finanziata sul bilancio dello Stato perché sarebbe rinuncia a maggior gettito è una teoria imbarazzante per chi la formula soprattutto se è un economista perché naturalmente il bilancio a legislazione vigente con la relativa previsione di entrate si fa tenendo conto dell'aumento del prodotto interno lordo perché significa aumento della base imponibile. Se io questa operazione la voglio fare davvero naturalmente la dovrò coprire integralmente perché modificherò il bilancio a legislazione vigente riducendo le entrate della quota corrispondente alla riduzione tra il 15% la flex tax sull'incremento e la imposizione che io avrei avuto normalmente. Come vedete sono ragioni assai serie che non possono non preoccupare in questo momento perché facendo operazioni di questo tipo i problemi del fisco italiano rischiano di aggravarsi non di risolversi. Grazie. Andiamo allora a concludere con Furlan. Possiamo sintetizzare un po' quello che ha detto Morando con le parole di un famoso economista che dovrebbe piacere la coalizione di governo il quale diceva che in economia non esistono passi gratis. E allora chiedo a Furlan da dove cominciare per una riforma del fisco che sia seria, strutturale e sostenibile come abbiamo detto oggi? Al di là, se dobbiamo cominciare da un punto, dobbiamo cominciare da un punto che tutte le riforme che noi possiamo fare, se poi qualcuno non paga le tasse e qualcun altro le paga abbiamo un problema. E perché qualcuno non paga le tasse? Perché a un certo punto si creano i magazzini con dentro una serie di cartelle che non sono pagate. Qualcuno non paga le tasse perché lo può fare. Perché se qualcuno lo può fare è perché sa che quello che sta facendo sebbene non si debba fare non avrà ripercussioni. Perché io se vado a 100 all'ora in autostrada e c'è il limite, vado a 120 e non mi danno mai la multa andrò a 120 e se invece mi danno la multa quando supero i 100 non ci vado, ci vado una volta, ci vado due, poi se non pago le multe ci continuerò ad andare. Quindi il problema è, e in questo senso dicevo anche che c'è una valorizzazione nella nostra intenzione del lavoro di chi fa l'esattore, l'esattoria. Perché chi fa l'esattoria, chi lavora nelle esattorie deve riscuotere quello che gli altri non sanno. E quindi intanto deve funzionare il lavoro di chi fa il lavoro di riscossione. E poi deve esserci il controllo chiaro su chi non evade, chi evade deve avere delle ripercussioni e in più si deve cambiare cultura. Non può esserci ogni X tempo, spesse volte quando c'è la destra del governo molto poco, una pace fiscale. Perché se no torniamo al punto di prima. Qualcuno dice prima o poi quelle tasse, tanto che non ho pagato, qualcuno le manderà al macero o le butterà in un magazzino che non verrà mai aperto. Allora, il problema intanto se dobbiamo fare una riforma fiscale al grado del merito delle misure è perché noi possiamo fare anche quella più equa possibile. Per cui diciamo che chi è benestante paga molto, chi è meno benestante paga meno, ma se poi quello che è benestante quel molto non lo paga siamo punto a capo. Quindi c'è un problema serio rispetto alla cultura del nostro paese rispetto all'evasione fiscale che non è una cultura di contrasto effettivo. Se ci fosse una cultura di contrasto effettivo poi si ragiona in termini di quale riforma e ovviamente le riforme che noi abbiamo in mente poi Domenico la sa molto meglio di me, ci sono una serie di proposte che noi possiamo fare ovviamente devono andare a favorire il lavoratore dipendente, ridurre il cuneo fiscale, devono avere tutta una serie di logiche che portano a meglio e più equamente redistribuire la ricchezza. E poi c'è in questo senso una diffusione di cultura che pagare le tasse è un modo per contribuire al benessere sociale e della collettività, perché noi continuiamo a pensare che pagare, c'era stato Tommaso Padova Schioppa che poverino è stato massacrato, crocifisso per una frase che effettivamente era da economista ma non da politico e lui in quel momento essendo un politico è stato massacrato, quando disse pagare le tasse è bello e quindi fu come hai detto tu crocifisso, ma in realtà pagare le tasse ha un valore civile straordinario di contribuzione delle persone che secondo quanto possono mettono a disposizione della collettività per offrire dei servizi soprattutto a chi ne ha più bisogno, perché poi quelli che non pagano le tasse e poi vanno in ospedale e hanno la sanità pubblica gratuita hanno rubato dei soldi a qualcun altro. Allora o ci mettiamo in testa che il problema è che chi evade il fisco sta facendo un male enorme alla collettività e soprattutto a chi ha più bisogno oppure qualsiasi riforma poi rischia di impantanarsi o di non andare avanti. Credo che su questo ovviamente il voto dell'altro giorno è un segnale drammatico perché se gli italiani ritengono che una flat tax, perché poi quello che diceva Morando, può essere una soluzione vuol dire che questa cultura non ha nemmeno la base su cui germogliare, perché se noi abbiamo un astensionismo che è più alto del voto espresso vuol dire che c'è o disinteresse o per chi poi vota e vota una maggioranza che va in una direzione che non coglie, anzi che preferisce una soluzione penalizzante rispetto a una riforma fiscale equa, credo che abbiamo dei passi enormi da fare e in questo senso ribadisco che il sindacato ha un ruolo centrale oltre che come agente negoziale che ci diciamo sempre ma come dice la Will e noi sosteniamo con grandissima convenzione come soggetto sociale che quando dice che è baluardo della democrazia lo è perché siamo baluardo della tutela della costituzione repubblicana antifascista come ricordava Giuseppe ma anche perché nel merito delle questioni siamo un baluardo di democrazia. Grazie, chiudo con una battuta veloce ai proietti, presto immagino il nuovo governo vi convocherà per discutere appunto delle riforme da mettere sul tavolo e io da cittadino chiederei alla politica anche di riformare quello che è il linguaggio perché ad esempio dire pace fiscale sembra di far credere che ci sia una guerra dello Stato contro il cittadino mentre forse la guerra è tra chi paga e non paga quindi voi che siete molto attenti ai singoli termini nella scrittura dei contratti forse potreste aiutare il governo anche più chiarezza infatti non lo usiamo noi. Noi l'abbiamo detto in diverse occasioni in molte audizioni parlamentari che se c'è da fare una pace fiscale in Italia bisogna farla con chi le tasse le paga, con i lavoratori di pensionati e anche le imprese produttive che le pagano, questo è il punto vero e su questo noi abbiamo idee molto chiare, questa svolta epocale deve consistere nella creazione di un'autority nazionale contro l'evasione, bisogna estendere la riluola alla fonte, è tutta l'imposta a molti settori del lavoro autonomo, lo si può fare, noi abbiamo presentato proposte tecniche che vanno in questa direzione, pagamento dell'IVA per esempio, se io vado dal dentista e pago l'IVA poi il dentista non la versa, si può pagare solo la parcella e l'IVA la versa l'utente, ci sono tante proposte, alla base di questo c'è la necessità però di una volontà politica e bisogna rafforzare i lavoratori della riscossione dell'agenzia delle entrate, c'è stato uno studio di qualche anno fa che dimostrava che ogni euro investito nell'agenzia delle entrate fa recuperare 4 euro di evasione, quindi le nostre sono proposte molto concrete, sulla riforma fiscale concludo, noi dobbiamo tornare a una reale progressività prevista dalla Costituzione, la flat tax non è di oggi, sono ormai dieci anni che si parla in questo paese, noi abbiamo fatto delle simulazioni, perché all'inizio era attrattiva anche sul lavoro dipendente, perché giustamente se gli dice mi ci metti l'aliquota al 15% perché devo dire di no? Ma se poi si va a vedere che per mettere l'aliquota al 15% si toccano tutte le detrazioni, noi abbiamo dimostrato che i lavoratori ci rimettono, allora la riforma fiscale deve essere fatta in maniera progressiva, bisogna porsi l'obiettivo di tagliare le tasse sul lavoro e per fare questo l'unica via è la lotta all'evasione, perché altrimenti non c'è nessun'altra via, lo abbiamo visto in questi anni e lasciatemi dire che è sicuramente vero che il governo, la maggioranza che è stata eletta in questi domenica, sotto questo punto di vista ha idee molto diversa dalle nostre, però io che sono di centrosinistra devo dire oggettivamente che in tutti questi anni in cui ha governato il centrosinistra non è stato affrontato in maniera adeguata questo tema e il problema che è venuto dalle elezioni probabilmente deriva anche da non averlo affrontato, io anche a sinistra ho sentito parlare di evasione di sovravvivenza, il pensionato, il lavoratore che non arriva a fine mese non la può fare l'evasione di sovravvivenza, se la politica non prende atto di questa realtà diventa uno spartiacque che deve caratterizzare l'azione, per quanto riguarda noi la UIL, lo ricordavo all'inizio e concludo, c'è una tradizione ormai quarantennale, voglio anche ricordare che questa azione volta a recupero dell'elevazione, al taglio delle tasse, era minoritaria dentro il sindacato confraterale italiano e grazie a questo impegno negli ultimi 5-6 anni abbiamo avuto una posizione unitaria di CGL e CISLUIL con una piattaforma che è ancora attualissima di come si deve fare la lotta all'evasione e di come si può ridisegnare la riforma fiscale, con queste idee noi andremo senza pregiudizi al confronto con il nuovo governo e con i gruppi parlamentari, sapendo che è un lavoro complesso, difficile, ma noi siamo fiduciosi, non ci spaventiamo perché pensiamo di avere buone idee e su queste idee chiameremo anche alla mobilitazione i lavoratori e le lavoratrici. Grazie. Grazie a tutti.